Ho bisogno di un altro minuto per capire come arrivare al 40%. Salve, io sono Uri di Economia 5 Stelle, siamo un gruppo di attivisti del Movimento 5 Stelle che da sempre è affavorevoli all'uscita dell'euro e cerchiamo di far diventare questa linea anche la linea ufficiale del Movimento 5 Stelle con molte difficoltà. La mia domanda è una domanda molto precisa, quando usciamo dall'euro e facciamo la fluttuazione del cambio quanto dovremmo pensare anche a misure protezionistiche per le nostre merci e per la nostra economia rispetto a economie emergenti come la Cina eccetera. Questa è la domanda. Grazie, grazie per la presenza e grazie per la domanda. Paradossalmente le misure protezionistiche non le dovremo mettere noi, le metteranno gli altri per le nostre merci. Perché inizieremo di nuovo a far paura. E' chiaro, riaggaggiato per quello che ha detto prima Alberto, che noi facendo parte del manifesto di solidarietà europeo non vogliamo questa uscita concordata, ci vogliamo mettere d'accordo perché non è che domani mattina prendiamo la Francia, la stacchiamo, la Germania, la Tà, saremo condannati a vivere sempre in questa Europa quindi è meglio che ci mettiamo d'accordo, da bravi amici. D'altronde, scusate, ma quante persone nella propria vita hanno avuto, purtroppo dico, la vicissitudine di separarsi in casa? Prima si litigava a morte quando si era moglie e marito, il giorno dopo magari dopo aver fatto il divorzio si è diventato altri amici e noi vogliamo questo. Cioè, non è detto, Alberto ha scritto una cosa meravigliosa nel mio libro, una postfazione. E ha scritto, lo ricordi perché l'hai scritto te. Non ho il negro, eh? Non ho il negro, esatto. No, ha scritto una cosa meravigliosa. Riconoscere i propri errori è un atteggiamento adulto. Qui si è fatto un errore madornale, riconosce... No, noi lo sappiamo, ma chi riconosca che è stato fatto un grandissimo errore. Quindi non vi preoccupate, le protezioni purtroppo forse le metteranno gli altri perché le protezioni nostre le metteremo noi perché quando troveremo sugli scaffali il famoso latte padano ha molto, molto meno del latte bavarese noi ci compreremo quello padano non solo perché costa di meno ed è anche più buono. Quindi è lì che glielo facciamo noi e si incazzeranno da morire i bavaresi. Però a questo punto non voglio andare oltre cosa gli rispondiamo. Ma la Cina... Dunque, allora, mi scusi, però... Vede, cerchiamo... Allora, quello che dico sempre ai miei studenti è questo l'economia è una scienza fatta di pezzi estremamente semplici perché ognuno di noi sa almeno un paio di cose. La prima cosa è che c'è la legge della domanda e dell'offerta. Se tu vai a comprare il pesce il venerdì è diverso che se ci vai sabato a luna prima che il mercato chiuda. Banalmente, a quel punto il pesce è in eccesso di offerta e il prezzo scende. Un'altra, diciamo così... Quindi queste piccole realtà. Il problema è tenere i coach insieme. Allora, intanto va da sé che c'è un ravviso, una lieve incongruenza, come ho detto l'altro giorno a un interlocutore molto preotorevole che è il professor Vaciago, nel preoccuparsi di una perdita di competitività nel momento in cui si lascia adeguare il valore di una moneta sopravvalutata al valore di mercato. Questa la competitività la migliora, per cui non capisco perché ci dovremmo preoccupare. Il discorso... Cioè lei cosa sta auspicando? Non capisco. Non capisco. Non capisco. Questa è una sua opinione, ma questo lo mette in overshoot. Guardi, il problema è che evocare il protezionismo, secondo me, è una cosa intanto sostanzialmente inutile in punto di fatto, perché nel momento in cui tu lasci funzionare il meccanismo naturale di riequilibrio della bilancia dei pagamenti, che è il tasso di cambio, di misure di barriere di prezzo sostanzialmente ne hai meno bisogno. Poi può esserci un discorso selettivo per cui vuoi proteggere alcuni mercati, se ne può parlare. Ma il punto è che in termini politici, in questo momento, immersi in 30 anni di bagno di retorica euro-liberista, secondo me evocare il protezionismo è un argomento politicamente anche debole, perché ti espone, ah, tu vuoi tornare, le guerre commerciali. Non ha minimamente senso, perché voglio dire, parliamoci chiaro, se noi, prego? Allora, voi avete un'idea di quanto... Allora, ordinati... Il signore non ha bisogno di microfono perché ha subito un'esperienza brutta che dobbiamo rispettare e della quale dobbiamo comprendere le ragioni, che sono tante. Io vorrei anche fare un discorso più generale. Evitiamo di prendere il discorso dell'euro come un discorso autoassolutorio, nel senso che ognuno di noi ha le sue responsabilità, ognuno di noi sa quanto si è impegnato, molte volte il successo e il fallimento di un individuo possono dipendere anche dal caso, può esserci un evento fortuito che cambia la tua vita, ognuno di noi ce l'ha avuto, nel bene o nel male. Io non sto dicendo che noi non abbiamo le nostre responsabilità perché una classe politica ha fatto una scelta palesemente sbagliata in termini tecnici, magari con buone o con cattive intenzioni. Le responsabilità individuali rimangono, rimangono i percorsi individuali che vanno rispettati. Però la Cina sta rivalutando il proprio cambio reale. In Cina il salario dei lavoratori stanno aumentando. Le aziende americane, a basso valore aggiunto, stanno rilocalizzando dalla Cina negli Stati Uniti. Questo già l'anno scorso lo diceva il telegiornale francese. Cioè la globalizzazione spinge evidentemente verso un'equalizzazione dei livelli di reddito. Certo che noi ci dobbiamo proteggere, ma nel momento in cui ripristiniamo flessibilità del cambio quella è già una protezione. Perché io parlo con molti imprenditori e poi dipende anche in che settore sei. Io purtroppo del settore degli ombrelli non ho esperienza diretta, ma nel tessile per esempio. Tanti mi dicono a noi basterebbe avere una moneta più debole del 10% e potremmo competere con la nostra qualità col prodotto cinese. Perché noi siamo ancora ad alto valore aggiunto se non ci automassacriamo. Quindi il problema è un po' anche questo. Non sto negando né il percorso né il fatto che racconta l'altro ascoltatore. Non lo sto negando. Ma le dinamiche di fondo vanno nel senso di rendere... Negli anni 90 la Cina contava per il 2% del nostro commercio, la Germania del 10%, ma noi ci vogliamo preoccupare di un colosso che abbiamo qui o di un paese che comunque in termini economici ha superato il 10% del PIL mondiale tre anni fa. Cioè è certo che il nostro interscambio, il 50% del nostro interscambio è con i paesi dell'area euro. Certo che la Cina sono un miliardo e sei di persone di cui un miliardo sono totali... Si possono permettere ancora un pugno di riso al giorno e forse la ciotola per mangiarlo. Quindi cerchiamo di capire anche i pesi... Cioè non usiamo neanche la Cina come scusa. Perché la Cina è stata usata come scusa dai vari gozzi, dai vari boccia, dai vari... Per dire, ah c'è la Cina cattiva che ci minaccia, allora uniamoci tutti insieme sotto l'euro che ci protegge. Attenzione anche a questo. Perché la Cina fondamentalmente di noi se ne batte, è chiaro il concetto, ha altri mercati. Dopodiché esistono settori nei quali ovviamente ci ha massacrato, è chiaro che la fine dell'accordo multifibre è stato uno shock per l'industria tessile europea, sono chiare tante cose. Però, secondo me, il vero problema rimangono sempre quei 50% del nostro commercio che si rivolge al nord dell'Europa e in confronto al quale noi subiamo un ingiusto, uno sleale svantaggio di prezzo.